Siete stati praticamente perfetti, a differenza di quanto è successo nell'ultimo periodo, non avete concesso nulla. Sicuramente venivamo dalla sconfitta di Verona dove prendere d'anti gol fa male, quindi questa settimana abbiamo lavorato sulla fase di non possesso, di non lasciare molto campo alle nostre spalle agli avversari e oggi penso che si è visto un Pescara molto più compatto, meno bello ma più efficace. Terza partita da titolare in questa stagione, due vittorie e una sconfitta, soddisfatto anche a livello personale, stai ritrovando la migliore condizione dopo i problemi fisici di inizio della stagione? Sicuramente fa piacere giocare e vincere le partite, però un giocatore non si deve mai accontentare, il giocatore deve mettersi in testa che può fare sempre di più, quindi non siamo sicuramente contenti in tre partite di aver vinto due e persa una, non vogliamo mai perdere, quindi non ci dobbiamo accontentare, dobbiamo andare sempre avanti e cercare di migliorarci. Gennaro, vediamo qualche segno, che cosa è successo? Sì, capita, quando vai nell'area avversaria ti sbracci, quindi sono cose... Un po' arrabbiato mi sa che non capita. No, 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 cose di campo che sicuramente capitano, l'importante è che non sono cose fatte al posto. Comunque abbiamo notato uno scognamiglio molto propositivo su palla inattiva, un paio di volte si è andato vicino, arriva il primo gol? Lo speriamo, però sicuramente conta più il risultato della squadra che quello personale, se arriva il gol e aiuta la squadra a raggiungere il risultato, ben venga. Quanto è stata importante questa vittoria, più per la classifica o più per il morale e l'ambiente? Secondo me più per il morale e l'ambiente perché il Pescara aveva bisogno di una vittoria e poi il modo in cui è arrivata, senza concedere niente all'avversario, stare belli e compatti, come dicevo anche prima, essere meno belli ma più efficaci. Arrivando Pilon, adesso scognamiglio non vuole più uscire, no? No, sicuramente, il giocatore vuole giocare sempre, però sta a me dimostrarlo in campo, l'allenatore fa le scelte, noi dobbiamo rispettare, ma se noi diamo il massimo in campo credo che l'allenatore non cambierà. Oggi hai ritrovato il tuo ex compagno di squadra Trapani Citro, hai avuto modo di salutarlo, di parlarci, di scambiare qualche parola? Sì, sicuramente, con Nicola siamo amici, ho ottimi ricordi e ci siamo salutati con tanto affetto.